Buongiorno e buon lunedì 19 luglio 2021, io sono Samor Piano e vi do il benvenuto in Land Explorer On Air, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Oggi voglio parlarvi di una cosa che spesso non capita in altri settori o intersettori nel mondo dell'economia e cioè quanti sono i soggetti che lavorano collegati al turismo. Perché questa è una domanda importante e perché deve essere sviscerata e soprattutto perché vi invito fin da subito a non solo mettere il classico like ma a commentare ciò che sto per dire, perché non c'è una risposta univoca. Io vi darò la mia risposta, vi darò il modo con cui affronto i temi legati alla governance del turismo, ma effettivamente di regione in regione cambia le modalità di gestione del mondo del turismo e soprattutto cambiano anche i rapporti di forza che ci sono nelle governance realizzate da regione a regione. Ebbene, se pensiamo alla situazione addirittura pre-referendum Renzi, diciamo così, quindi il momento in cui le province dovevano scomparire, troviamo e che poi in realtà sono rimaste proprio perché il referendum non è andato a buon fine, ci trovavamo in questa situazione, comuni che potevano essere turistici, poi avevamo le comunità montane, unioni montane, oggi si chiamano così in gran parte d'Italia, che appunto ragionano invece sul turismo montano, poi avevamo i consorsi turistici, consorsi privati, poi le ATL, quindi le aziende turistiche locali, che una volta erano addirittura anche APT ed erano aziende nate per la sola promozione. Poi avevamo la provincia con le sue deleghe al turismo, poi avevamo la regione con le sue deleghe appunto in quanto materia concorrente al turismo tra regione e Stato, la regione quindi poteva gestire la promozione delle proprie peculiarità a livello turistico per poi arrivare allo Stato, lo Stato che ovviamente dopo la perdita del Ministero del Turismo appunto avvenuto con il referendum del 1993, si è disgregata la strategia turistica in mille rivoli in particolare, in 20 rivoli quelli regionali, ma dovremmo moltiplicarlo rispetto a tutti i soggetti che ho appena citato. Ovviamente il turismo a livello nazionale viene proprio proposto all'esterno attraverso l'ENIT, quindi l'ente nazionale del turismo italiano che ha una funzione specifica, quella di proporre appunto l'Italia nel suo insieme verso l'estero, ma internamente in Italia ormai le strategie per un turismo strutturato secondo delle conoscenze delle bellezze culturali, naturali, attrattive sportistiche eccetera, sono legate appunto al mondo regionale. Questo è un bene o è un male? Molti studiosi definiscono questo un male, perché? Perché non c'è una strategia alla base unitaria, se non qualche linea di similitudine. Dall'altra parte effettivamente il problema più grosso che si aveva prima era una struttura invece troppo rigida nella gestione delle strategie. E quindi che cosa è meglio? Non c'è una risposta corretta, se non la classica risposta dipende oppure la media res, cioè la media via sarebbe stata la cosa migliore. Ad oggi si cerca un ritorno addirittura del Ministero del Turismo, ricordo che appunto da quando è arrivato il primo ministro, il premier Draghi, abbiamo appunto il ministro Garavaglia come ministro del Turismo che è un ministro però senza portafoglio, questo dobbiamo tenerlo presente in quanto appunto il referendum abrogativo del 1993 non permette sostanzialmente la riedizione del Ministero del Turismo così come lo si era pensato quindi un Ministero con portafoglio, quindi con l'opportunità di intervenire in maniera economica sul settore o intersettore. A questo punto come una strategia nasce? Qui è il grande dilemma ed è quello che bisogna affrontare oggi in maniera strutturata per i prossimi anni ed è una strategia che spesso è in mano a tecnici che ci devono essere, sì è ben chiaro, senza di loro non avremmo dati, non avremmo analisi, io stesso faccio parte della schiera dei tecnici per cui si ha bisogno per comprendere questo turismo che è una sorta di camaleonte che cambia colore velocemente a seconda delle situazioni in cui si trova, dall'altra parte però il rischio di avere dati, analisi eccetera pronti, letti, riletti, rianalizzati, rielavorati, resi disponibili anche per persone che non conoscono la materia turistica in maniera semplice e quindi accessibile ma senza una strategia anche se vogliamo politica o comunque una strategia politico-amministrativa tutto questo lavoro risulta bello sulla carta, importante sulla carta ma non fattuale. In più dobbiamo pensare che il turismo ha al suo interno una serie di rivoli anche nel mondo del terzo settore, quante associazioni culturali richiamano il fatto di sviluppare una serie di attività a fini anche turistici. Se pensiamo al Proloco, altro ente volontaristico che gode tra l'altro di una serie molto particolare di benefit proprio perché lavora sullo sviluppo del luogo del genius loci diremmo in maniera corretta, ecco ci troviamo di fronte anche a denti del terzo settore che entrano in maniera strutturale nella strategia del turismo. In tutto questo ovviamente ci si domanda, e qui è la domanda veramente principe, la questione principe che dobbiamo affrontare in questo video podcast è come mai ancora il turismo sia in Italia ancora abbastanza sotto sviluppato rispetto alle potenzialità. Ricordiamoci che più del 70% del patrimonio mondiale unesco-culturale lo ha l'Italia. Nasce proprio da questa enorme frammentarietà del sistema organizzativo e quindi la situazione da affrontare sarebbe una sistematizzazione a livello normativo, quindi giuridico, normativo, ma anche legato a flussi economico-finanziari su come sviluppare questo sistema. Perché ad oggi diciamo che l'ente pubblico e l'ente del terzo settore sviluppano le strategie e cosa è demandato al privato sostanzialmente? Lo sviluppo dei servizi, i servizi che devono remunerare, sì, ma se questi servizi arrivano solo dopo una strategia dove l'ente privato, il privato impresa entra solo a fine ciclo, non ha possibilità di sviluppo, è un po' come nel marketing che si pensa alle azioni di marketing solo quando il prodotto è già realizzato. Ovviamente che cosa può fare il marketer di turno? Può fare una cosa sola, mettersi a pensare delle strategie operative di vendita del prodotto con una serie di sconti, di cose viste e riviste, perché? Perché non c'è stato l'approccio giusto nello sviluppo del prodotto e del marketing del prodotto mentre si sviluppava effettivamente le specifiche di quel prodotto. E così succede nel turismo, troviamo sconti, promozioni. In questo periodo di Covid vediamo il turismo in difficoltà e quindi ecco che aumentano le promozioni per cercare di riattirare il turista, ma non sta cambiando in realtà il prodotto di fondo. Potremmo fare un esempio giusto per rendere ancora più semplice e comprensibile da tutti la tematica, è come se noi presentassimo un telefono di qualche anno fa rimbellettato, ma con le specifiche di qualche anno fa. Uguale sta succedendo in questi anni nel turismo. Continuiamo a cambiare nomi, a cercare di renderlo più bello, più attraente, un prodotto che però ha già qualche anno. Questo nasce da un approccio sbagliato al territorio. Perché nasce un approccio sbagliato al territorio? Perché deriva da una lettura del territorio sotto forma di merce. Passatemi il termine, il territorio diventa mercificato. È un prodotto a cui si connette una strategia di vendita. facendo così, il territorio si degrada nel lungo periodo e nel medio periodo incomincia ad avere i suoi problemi di capacità di carico, perché alla fine non stiamo ragionando su un prodotto di largo consumo ricostruibile continuativamente, ma di un territorio che può solo peggiorare, quindi da una situazione iniziale di benessere può solo peggiorare nel medio e lungo termine aggiungendoci flussi e quindi è necessario reinvestire, rimpostare la strategia organizzativa. Per fare questo c'è bisogno di marketing territoriale. Marketing territoriale, qui lo dico sempre a proposito di queste tematiche, che il sottoscritto è sempre disponibile a ragionare in fase di consulenza per i territori, ma è importante che chiunque venga scelto per lo sviluppo della strategia, riinizi dal territorio, riinizi mettendo al centro tutto ciò che il territorio può dare e come rendere fruibile a seconda degli stadi di avanzamento di questo territorio, per cui se si ha un avanzamento forte nel mondo produttivo e allora si va a vedere tutte le attività artigianali, si va a vedere le industrie come ragionano su quel territorio, lo utilizzano solo per i propri fini commerciali oppure hanno un'attenzione. Spesso nell'Italia la fortuna di avere imprenditori del territorio e imprese del territorio che sono radicate fortemente in quel territorio e il territorio per loro è stato il volano su cui sviluppare la propria impresa ed è su quello che bisognerà sviluppare un senso di appartenenza forte che magari si è perso negli anni proprio perché si è sviluppata l'impresa magari anche su più mercati internazionali e quindi è difficile mantenere l'identità dell'impresa collegata al proprio territorio oppure lo si dice ma non lo si richiama così fortemente nelle attività benefiche dell'impresa ecco che allora è necessario riattivare questa forma. Un'altra cosa importantissima è quella di valutare l'enti del terzo settore, che cosa hanno fatto, in quali fasi di avanzamento sono state realizzate alcune opere, ad esempio la risistemazione dei sentieri, la rete insentieristica, la rete culturale, a proposito sulla rete culturale se ragioniamo come si è sempre fatto negli ultimi anni dove la cultura è investimento per il turismo è necessario comprendere se quello è la reale lettura di un territorio in maniera omnicomprensiva, non basta avere effettivamente un museo sul territorio per raccontare quel territorio, ma se quel museo non guarda all'esterno e quindi non c'è uno scambio osmotico tra interno, tra dentro il museo e fuori il museo, quella ricchezza è depotenziata. Questi sono solo alcuni esempi di quanto è necessario rivedere la strategia nel settore del turismo e in parte anche nel settore della cultura. Tutto non può essere delimitato e delineato solo dal buon volontariato, questo l'ho già detto in altri video quindi non sto a ripeterlo, ma è necessario assolutamente prendere coscienza del fatto che ci sono troppi enti che parlano di turismo e bisogna capire se realmente hanno qualcosa da dire, troppi, li abbiamo elencati all'inizio di questo video, sono gli enti che parlano di turismo e non è detto che tutti abbiano il potere e il diritto e dovere di parlare di turismo in maniera strutturale, due c'è bisogno di comprendere come questi enti che per tutta una serie di motivi hanno avuto o hanno l'opportunità ancora di parlare del turismo, debbano riorientarsi a una strategia realmente aperta a 360 gradi. Non mi rimane che ricordarvi gli appuntamenti fissi di Land Explorer per cui intorno al mercoledì esce la nostra newsletter, per chi volesse iscriversi alla newsletter trova la coordinata direttamente in un page del sito, in questa settimana verrà anche rivisto il sito quindi potrebbe non trovarsi facilmente la situazione della newsletter, ma non vi preoccupate, basta chiederlo attraverso i messaggi privati dei social, vi ricordo che più o meno tutti i giorni pubblico su Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business e altro. Vi ricordo anche che ogni settimana il lunedì esce il nostro video podcast che potete seguire come sempre su YouTube, ma anche attraverso le piattaforme di podcasting come Spotify e Apple Podcast. Per i più puristi, Spreaker, a lunedì prossimo!